Lo sapevi che i francesi secoli fa sono venuti a conquistarci? Vennero a conquistarci perché pensavano che noi eravamo degli idioti di merda. Napoleone ha detto proprio così. Sono degli idioti di merda. Idioti di merda. Pensate ancora, francese. Il doppio sei. Ogni volta che mi alzo alle cinque di mattina, mi ricordo di te. E allora comincia un altro bellissimo giorno. Antoine, vi aspetta! Non ho niente altro, e soprattutto non ho niente a perdere. Ma siete vicini di casa, insomma. Prendete una birra, parlate. Fate le cose che si fanno fra buoni vicini. Ho visto che avevi la telecamera. Mi stavi riprendendo, vero? Vero che mi stavi... Ci avete rovinato! Francese! Anche Anche Un necessario Grazie.